Il successo mancato con la casa tese domenica scorsa è arrivato per il Crema 1908 in casa del Desenzano Calvina, una squadra che prima di entrare in crisi giocava per il primo posto. Dopo il cambio di mister i bresciani sono rimasti scottati dalla visita del Crema che si conferma la miglior squadra di questo girone di ritorno. Prime schermaglie poco pulite, per così dire, senza occasioni nitide, come quando Poledri lavora bene al limite ma poi trova un muro dinanzi a sé. Il primo vero spunto convinto coincide col gol. Al trentasettesimo la magia di Ferretti che con uno stop extra lusso tiene palle in campo dopo un lancio lungo. Poi l'azione prosegue, il portiere di casa Sellito sbaglia la presa e c'è Rasani implacabile sotto rete 0-1. Riparte il Desenzano Calvina, Gerevini tenta il cross insidioso dalla sinistra, Ziglioli non trema. Nella ripresa show degli uomini di maggior classe ospiti anche se forse è troppo lezioso, triangolo Ferretti, Poledri Ferretti con il 9 che calcia, alto di poco. Un contrasto aereo Aliu-Ruffini priva il crema 1908 del suo totem centrale ma la squadra resiste comunque senza troppo soffrire. Ziglioli alza così la punizione di Marangon. Nel finale Mandelli al volo centra il palo dopo angolo illuminante di Ferretti, poi sul tapin Baggi trova Sellito in mischia. Gli ultimi palpiti passano da una zuccata di Aliu larga ma c'era fallo sul difensore, dal contropiede di Poledri che Sellito ferma in caduta, infine dalla punizione di Gianni che mette i brividi a Ziglioli ma l'1-0 resiste per il crema 1908 ora la parola playoff non è più una fantasia.